Abitatori, viti specializzati, abitiamo qualsiasi tipo di vite, viti autofilettanti, viti da legno, da ferro, viti a stella, viti di bonarda, di barbera, di blambrusco. Assortimento, vasi sopraffini. Abbiamo tutti i tipi di vasi per piante grasse, magre, abbiamo vasi sanguinei per aorte, vene, arterie. Antivegani con lo strutto, per lo gnocco fritto, sushi di strutto, non fare lo struzzo, mangia lo strutto. A che maso, di sentini per lo sprizz? Siamo venuti, a basso a pedol, viva lo sprizz! Siamo venuti, a basso a pedol, viva lo sprizz!